Ciao a tutti, in questo video voglio parlare dei misteri del crollo del ponte di Genova, il ponte Morandi, chiamato il ponte sull'autostrada, o i genovesi lo chiamavano anche il ponte di Brooklyn, perché un po' ricordavano le caratteristiche del ponte di Brooklyn. Allora, a 15 giorni dal crollo di questo ponte, che ricordiamo appunto è caduto il 14 agosto 2018, qualche mistero resta, anzi direi più che qualche mistero, anche perché poi ho visto tutta una serie di video su internet dove sono state poste alcune domande, alcuni dubbi, diciamo, intanto poi c'è anche il caso di una televisione tedesca che parla di crollo dovuto a esplosioni, come se il ponte fosse stato minato, però uno dice la televisione tedesca, e loro facevano riferimento a un ingegnere tedesco che ha fatto questa valutazione. Ma andiamo un po' per i gradi, quali sono questi misteri del crollo di questo ponte? Ma uno è che è stato accertato, ci sono anche molti video su internet, qualcuno che aveva ripresi, di lavori incessanti, diciamo così, fatti la notte prima del crollo. Ricordiamo che in quei giorni a Genova vi era un violento nubifragio, proprio pioveva in modo molto molto violento, e quella notte lì veniva proprio giù un'acqua torrenziale, diciamo così, e nonostante questo si vedevano dei lavori, cioè c'erano delle squadre, luci, tutta la notte su quel ponte. Ora, è evidente che non si trattava di lavori di manutenzione ordinaria o qualcosa del genere, perché in quelle condizioni atmosferiche non ci sarebbe stato, sicuramente non avrebbero fatto nulla. Ora, perché sono stati mandati quelle squadre? Chi erano queste persone? Cosa facevano? Eh, questo credo che è la prima cosa che debba essere accertata, perché se erano state mandate dalle autostrade a fare qualche lavoro, che lavoro dovevano fare? Perché c'era questa urgenza, diciamo, di farlo durante la notte? Avevano qualche sospetto, qualche cosa che potesse cadere? Qual è il motivo? Perché poi al mattino il ponte comunque è crollato. Quindi questa è la prima cosa, credo, da prendere in considerazione. Poi c'è un altro mistero, che anche questo ho visto in diversi video, è il mistero dato dal fatto che ci sono, forse una sola immagine del crollo del ponte è fatta da un video amatore, diciamo così, da una persona che si trovava più o meno in zona e a combinazione ha ripreso. Perché su quel ponte, il ponte era monitorato da telecamera, da videocamere. Ben due. Eppure non risulta nulla. Non ci sono riprese. Non so, magari hanno detto che potevano essere col crollo del ponte andate a perse le immagini, però sarebbero dovute rimanere le immagini del crollo o a un secondo prima. Perché comunque sono immagini che vengono comunque mandate direttamente online. Per cui questo... Perché non ci sono immagini? Perché non ci sono immagini? E questo è anche un qualcosa che io credo che sia da appurare. Perché ci sono immagini tutto di questo ponte? No, non ce ne sono. Del crollo del ponte non ce ne sono. Poi c'è un'altra cosa che secondo me è interessante. Nell'unica immagine che comunque ormai è diffusissima su internet, quell'immagine amatoriale del crollo del ponte, si vedono prima del crollo due bagliori. Come fossero questi due bagliori. Ora, cosa saranno stati questi due bagliori? Due esplosioni? Oppure qualcuno dice, ho sentito, diversi sono alcune teorie, i tiranti che strappandosi hanno generato delle cariche elettrostatiche o si sono strappati i fili, i conduttori della corrente. Insomma, qualcosa è. Però anche lì è un qualcosa di particolare. E poi ci sono altre simulazioni, su internet si trova tutto, che comunque lo strapparsi i tiranti non avrebbe dovuto far crollare il ponte in quel modo lì. Anche perché molti sostengono che quei tiranti non avevano proprio la funzione strutturale di sostegno del ponte, ma soprattutto servivano per compensare le oscillazioni. Quindi da un punto di vista di statica erano comunque minoritari. Ecco, anche lì il mistero sul perché è crollato questo ponte ed è crollato in questo modo. Cioè il ponte si è proprio sbriciolato. In alcune simulazioni hanno fatto vedere che il ponte ha voluto inclinarsi, insomma, non distruggersi in questo modo. E invece lì si è proprio sbriciolato praticamente. Ecco, quindi questo è un altro mistero. Ovviamente misteri ce ne sono tanti. Da partendo dalle Twin Tower, le Twin Tower io sento tantissime persone, tutti dicono che è il crollo tipico di una struttura che è stata minata. Ho parlato anche con le persone che facevano questo lavoro, cioè minavano e facevano crollare le strutture. Non sembra che un aereo colpendo la torre possa generare questa cosa qua. E lì è una qualcosa. Ma poi anche in Italia, Ustica, non si è mai saputo nulla. Chi è che ha battuto quell'aereo di Ustica? Ci sono un sacco di cose che restano nascoste. È come se ci fosse una regia. Poi è ovvio che vengono fuori le cose più strampalate. Qualcuno elabora anche teorie che l'abbiano fatto cadere apposta per evitare le cose di manutenzione. Cioè fosse una cosa del genere non credo proprio, perché insomma a questo non voglio pensare. Anche perché allora blocchi la strada e poi dopo lo fai cadere. Cioè credo che si tratti di un errore, il ponte è minato poi per errore. Tutto è possibile. Però diciamo che in questo crollo di questo ponte qualcosa di strano. Cioè io spero che sicuramente faranno delle indagini, che diano comunque delle risposte certe. E soprattutto cerchino di far saltare fuori delle immagini, perché non è possibile. Io credo che immagini non ce ne siano, visto che comunque le telecamere c'erano. Tutti i cittadini genovesi, ma tutti i cittadini italiani si aspettano comunque delle risposte. Si aspettano delle risposte, che siano risposte però verificabili, oltre ogni ragionevole dubbio, insomma. Va bene. Per questo video è tutto. Al prossimo. Ciao.